Oggi andiamo a vedere un concetto importantissimo che è quello di libertà, perché come non mai sento dire voglio essere libero, io devo essere libero, ma che vuol dire voglio essere libero? Pensiamoci bene, è un messaggio devastante per l'inconscio, perché il lipper era colui che per condizione sociale era un uomo libero, che si contrappone allo schiavo, quindi al serfo, quando noi diciamo voglio essere libero, diciamo all'inconscio guarda sono schiavo, è per questo che anello a diventare libero, sono schiavo di chi? Di cosa? Di gruppi, di mode, di ideologie? L'uomo non nasce per essere libero, ma l'uomo è libertà, cioè lui in potenza è libero di essere tutto quello che vuole, c'è una sorta di libertà quantica che lo avvolge, non so se esiste realmente questa parola, ma mi piace usarla, perché noi abbiamo in potenza tutto quello che ci serve per riuscire. Vi siete mai chiesti perché il pagatto, l'alcano numero uno di Tarocchi di Marsiglia, rappresenta un personaggio che sì, in inizio, l'avvio di un progetto, ma ha già tutti gli strumenti per mandare avanti la sua opera? Non è uno sprovveduto, già quello che gli serve è in suo possesso, così noi, e se non siete ancora riusciti a concretizzare quello che volete, se non siete riusciti a rendere reale il vostro sogno, è perché nessuno ve l'ha ancora detto, ma voi siete liberi di essere e di fare tutto quello che volete.